Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per il nono episodio della nostra carriera su F1 Manager 2022 con Scuderia Ferrari, GP del Canada Circuit Gilles Villeneuve. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 8, il GP di Baku in Azerbaijan, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Arriviamo a questo episodio con un altro 1-2 raggiunto, con giro veloce nella gara di Baku in cui abbiamo montato i nuovi componenti, abbiamo visto subito la grandissima differenza rispetto al GP di Monaco in cui abbiamo dovuto affrontare un brusco passo falso dopo un inizio di stagione assolutamente sensazionale, vediamo se ci confermeremo in un circuito molto simile per velocità massima a quello di Baku. Ovviamente, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e vi ringrazio ancora per quanto la state supportando. E a questo punto, visto come stanno andando i precedenti episodi, vi chiedo di lasciare 100 mi piace per supportare questa serie. Credo che sia a questo punto un obiettivo abbastanza raggiungibile, quindi voglio vedere questi 100 mi piace al più presto in questo video, sotto questo video. Ovviamente vi chiedo anche di lasciare un commento con il vostro pronostico riguardante la prossima gara della stagione. Arriviamo al decimo round stagionale, uno secondo me dei circuiti più belli della stagione di Formula 1, è uno dei circuiti anche più storici, il GP di Silverstone Regno Unito. Possiamo vedere dal meteo che la domenica è prevista pioggia, potrebbe essere il primo Gran Premio sotto la pioggia per noi. Silverstone lo sappiamo, Regno Unito è la terra della pioggia, molto spesso piove durante il Gran Premio di Silverstone e sembra che possa succedere la stessa cosa anche nel Gran Premio qui in questa prima stagione per la Ferrari su F1 Manager, per la prima stagione di Alas Adamson alla guida della Ferrari. Detto questo ragazzi vi chiedo come sempre anche di iscrivervi al canale, se vi piace questa serie valutate l'iscrizione al canale, nel caso cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Terminata tutta questa intro, andiamo sulle mail per la mail dei preparativi di gara, andiamo nella schermata di gara e andiamo a impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana. Terminata l'impostazione degli obiettivi prestazionali, scendiamo in pista per iniziare il nostro weekend di gara. La Formula 1 torna a Montreal! Speriamo che oggi non sia il giorno della marmotta, quei roditori hanno già creato scompiglio in più di una gara in passato. Il Gran Premio del Canada sta per iniziare e l'unica tensione che vogliamo vivere in pista è la lotta tra grandi campioni, determinate a conquistare un posto sul podio. Il Gilles Villeneuve è un circuito veloce e scorrevole, ma che obbliga anche a frenate ripartenze con le sue chicane e i suoi tornanti. La deportanza a media velocità sarà la chiave per evitare il muro dei campioni e assicurarsi il trionfo su questo circuito leggendario. La stagione è quasi al giro di boa e la domanda sembra inevitabile. Cos'altro avrà in serbo per le scuderie? C'è un solo modo per scoprirlo. La battaglia inizia! Ed eccoci pronti per l'inizio di queste prove libere. Al sabato è prevista pioggia, quindi le qualifiche potrebbero essere sotto la pioggia. Proseguiamo nella nostra schermata e andiamo subito ad impostare gli assetti delle nostre vetture. Impostati gli assetti per le nostre vetture, andiamo a gestisci prove libere 1, scendiamo in pista per le PL1. Radio check completato, ritorna in pista anche se dobbiamo ancora scendere in pista per la primissima sessione, per i primissimi giri su questa pista. Scendiamo in pista con entrambi i nostri piloti, noi come sempre ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo, siamo pronti per il sabato di qualifiche. Come sempre abbiamo, come quasi sempre, abbiamo svolto direttamente PL1 e PL2, poi abbiamo simulato le PL3. Per quanto ci riguarda un ottimo assetto delle due vetture, soprattutto con Carlos, 97%, 93% con Charles Leclerc. Ora andremo a dare una nuova occhiata al nostro assetto per vedere se abbiamo effettuato le scelte migliori. Per quanto riguarda i set di gomme, ne abbiamo tre a disposizione, in più ne avremo uno aggiuntivo. Se approderemo nel Q3, andiamo a vedere l'assetto di Charles Leclerc, che è perfettamente nel range. Forse possiamo migliorare leggermente la stabilità in frenata. Andiamo a ritoccarlo leggermente e poi vedremo l'assetto di Carlos Sainz. Mi avete chiesto nei commenti di mostrarvi gli assetti che porto in ogni singolo Gran Premio, quindi cercherò da questo episodio in poi di mostrarvi l'assetto di ognuno dei due piloti. Questo sarà l'assetto portato in qualifica e in gara da Charles Leclerc. Abbiamo semplicemente ritoccato un po' la campanatura delle ruote, la convergenza, di modo da riportare la stabilità in frenata più verso il grande, verso il perfetto. Comunque un'ottima vettura e un ottimo assetto quello di Charles Leclerc. Andiamo a vedere invece quello di Carlos Sainz, che direi è praticamente perfetto. Tre perfetto e due grande, quindi non andiamo a ritoccare assolutamente i suoi assetti. Confermiamo quindi gli assetti dei nostri due piloti e andiamo subito a scendere in pista, avviamo le nostre qualifiche e scendiamo in pista per l'inizio del Q1. Completato il controllo radio, il radio check per il nostro Charles Leclerc, aspettiamo all'incirca 11-10 minuti dal termine della sessione per scendere in pista con Gommarossa Nuova e effettuare il primo e si spera unico giro di questo Q1. Ho sbagliato completamente la strategia, non mi son reso conto che avrebbe iniziato a piovere, quindi aspettiamo il termine della sessione perché sembra che il meteo possa migliorare, quindi peccato non mi son reso conto che avrebbe iniziato a piovere e ora comincia a piovere, però dovrebbe al termine della sessione smettere la pioggia e quindi aspettiamo al termine del Q1 a questo punto per effettuare il nostro giro, sempre con Gommarossa. Lasciamo montata quindi la nostra Gommarossa per effettuare il nostro giro. Attenzione, incidente di Verstappen, due incidenti nelle prove libere 1 e 2 per Verstappen ed è andato dritto nel muro dei campioni, già nel Q1. Mi sa che Max Verstappen è già fuori dalla sessione. No, forse no, non viene segnalato come fuori dalla sessione, ha fatto il suo giro con Gommarossa intermedia, noi possiamo a brevissimo scendere in pista, c'è il sole sul tracciato quindi a breve scendiamo in pista per effettuare il nostro giro, aspettiamo un po' che la gommatura del tracciato vada a migliorare. Direi che è il momento di scendere in pista con entrambi, ritorniamo in pista con entrambi i nostri piloti, la pioggia sta diminuendo nettamente nella tracciato, scendiamo in pista con la Gomma Rossa con entrambi i nostri piloti, avevo bloccato per sbaglio, quindi in pista con Charles Leclerc e con Carlos Sainz, gommatura molto bassa sul tracciato, teoricamente ora dovrebbe subito cominciare a migliorare. Per ora è solo verde per Charles Leclerc, forse siamo scesi in pista leggermente troppo presto, considerando che non stiamo migliorando i tempi di Fernando Alonso, però speriamo naturalmente che il nostro tempo risulti buono per poter passare il turno. Charles Leclerc va a tagliare il traguardo, andiamo sull'onboard, taglia il traguardo con tre settori verdi e si mette alle spalle di Alonso di due decimi, vediamo Carlos Sainz che tempo va a siglare, sigla un tempo subito inferiore, di poco inferiore a quello, o di poco superiore a quello del compagno di squadra, però dobbiamo stare attenti, ora rientriamo e probabilmente riusciamo subito per effettuare un secondo tentativo, perché secondo me la pista va migliorando, quindi gli ultimi che scenderanno in pista faranno il tempo migliore rispetto a tutti gli altri. Siamo ritornati subito in pista, dovremmo essere in grado di effettuare il nostro giro, anche se siamo usciti piuttosto giusti, sono scesi in pista tutti per migliorare ora che praticamente non c'è più acqua sul tracciato, anche se stiamo uscendo dai box, teoricamente dovremmo essere in grado con entrambi i nostri piloti di completare il nostro giro, dobbiamo fare molta attenzione a queste condizioni meteo perché rischiamo che ci vadano a fregare, sono queste le condizioni che ci possono fregare e attenzione a Max Verstappen perché dopo l'incidente è riuscito comunque a rientrare e a riparare la sua vettura, però ora si trova in ventesima posizione. Non ce la facciamo a tagliare il traguardo, è un disastro per noi, non ce la facciamo a tagliare il traguardo, è terminata la sessione e non possiamo migliorare, siamo in seconda e terza posizione con entrambi i nostri piloti e rischiamo che davanti a noi vadano tutti a migliorare, potremmo non passare il torno. E fortunatamente no, non si migliorano troppo là davanti, c'è coloro che erano dietro di noi, coloro che sono riusciti a fare il giro, terminiamo in quarta posizione con Charlie, in quinta con Carlos Sainz, andiamo a vedere Max Verstappen perché Verstappen è rimasto in ultima posizione, non è riuscito a migliorare neanche nel suo ultimo giro, Verstappen partirà dal fondo, penalità per Mick Schumacher e Nicolas Latifi, ma Verstappen parte in fondo e a questo punto per lui dovrebbe essere la gara giusta per prendersi delle penalità, visto che in ogni caso dovrà partire dal fondo, comunque dalla diciottesima considerando le penalità degli altri. Quindi Max Verstappen è già fuori dalla sessione e noi possiamo tranquillamente proseguire, migliorata la fiducia di Charles Leclerc al 96%, possiamo come detto proseguire e avviare il Q2, scendiamo in pista per il Q2 e naturalmente aspettiamo proprio a circa otto minuti dal termine, andiamo però prima a vedere il meteo e aumenterà nella seconda parte la possibilità di pioggia, quindi direi a questo punto di scendere subito in pista con la gomma usata in precedenza, perché è una gomma che abbiamo usato veramente poco, quindi preferisco provare ad utilizzare quelle gomme e cercare di risparmiarne quanto più possibile per il Q3. Ultima curva, muro dei campioni affrontato per Charles Leclerc, che ha fatto il primo settore verde e il secondo fucsia, al contrario invece viceversa per Carlos Sainz, Leclerc chiude in 1.12.6 con Sainz in 1.12.3, hanno trovato un po' di traffico entrambi, però i tempi sembrano comunque piuttosto elevati, pensavo che si scendesse sotto l'1.12, sinceramente probabilmente la gommatura è talmente bassa che ancora la pista deve migliorare, vediamo se questo tempo sarà buono per passare il taglio, penso che sia un tempo abbastanza valido. Ho deciso di non scendere in pista nuovamente, e infatti passiamo tranquillamente nel Q3 utilizzando la gomma usata anche nel Q1, Perez ci batte di pochissimo, ma facendo il giro al termine della sessione con pista che andava migliorando, Sainz in seconda, Russell in terza e Leclerc in quarta, Hamilton Aronso botta so con Norris e Zoe, gli altri qualificati eliminati, Ricciardo Tsunoda, Magnus Enfettel e Mick Schumacher. Proseguiamo e siamo pronti a scendere in pista per l'inizio del Q3, ovviamente stavolta andiamo a montare gomma... No, questa pista potrebbe essere una pista in cui si fanno due soste, e sinceramente preferisco mantenermi due set di gomme rosse nel caso. Non abbiamo utilizzato set di gomme medie, vedo, durante le prove libere, quindi se c'è la possibilità di tenere comunque due set di rosse, possiamo pensare di fare due soste nel caso da medie con due soft, oppure utilizzare una soft e due medie durante la gara. Quindi in questo momento preferisco montare la gomma usata e fare il primo giro su gomma usata, poi naturalmente andiamo a valutare qual è il meteo. Avviamo così, quindi le nostre qualifiche scendiamo in pista. Per l'inizio del Q3 andiamo subito a valutare il meteo che dice pioggia al termine della sessione, quindi no. Quindi no e andiamo subito a riconfigurare la nostra vettura, andiamo a montare il treno di gomme rosse nuove per entrambi i nostri piloti, velocizziamo ovviamente per il montaggio e scendiamo subito in pista. Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz, scendiamo in pista ora, prima che arrivi la pioggia. Rettilineo principale, Charles Leclerc sta affrontando l'ultima chicane del tracciato dopo due settori fucsia. Vediamo in quanto riesce a tagliare il traguardo. Il pilota Monegasco che chiude con un 1.12.291 davanti a Sainz di 99 millesimi. È un tempo... No, sì, 291. Mi stavo confondendo col tempo di Sainz. Triplo fucsia per Leclerc. Dobbiamo ora fare attenzione a Sergio Perez perché ha dimostrato di avere un tempo molto simile al nostro. Speriamo che non riesca a migliorare. Ora arriverà la pioggia, quindi sicuramente non si riuscirà a migliorare. Prima del termine della sessione. Stavo seguendo Sergio Perez che sta per iniziare il suo giro ma purtroppo per lui è iniziata la pioggia quindi non credo che il pilota messicano riesca a migliorare rispetto al nostro tempo quindi sembra ormai una formalità il nostro 1.2. Vedremo nei giri successivi come completerà il giro il pilota messicano. La pista sta diventando umida e infatti noi stiamo rientrando ai box mentre Sergio Perez decide di iniziare il suo giro ma è difficilissimo che riesca a migliorare. E infatti tutti i piloti che non avevano fatto un giro sono rimasti fregati. Da Perez, Russell, Hamilton, Alonso e Zou si sono giocati la posizione con una gomma intermedia ma giocandosi solo dalla sesta in giù appunto. Charles Leclerc si prende la pole davanti a Carlos Sainz poi Norris in terza posizione, Bottas in quarto con in quinta Perez, Russell, Hamilton, Alonso e Guanyu Jou questa la top 10 a seguire Richard Uzzuno da Magnus Enfett e Schumacher-Stroll Albon Latifi, Gasly e Max Verstappen. Proseguiamo e scendiamo in pista per la nostra gara. È il momento di darsi battaglia! È il giorno della gara! Negli ultimi giorni la Ferrari ha regalato grandi emozioni ai suoi fan. Adesso deve sfruttare al massimo la posizione in griglia per rendere fieri i suoi tifosi. La prestazione della Red Bull nelle qualifiche fa ben sperare. Ora il team deve sfruttare la posizione di partenza per replicare il successo anche in gara. La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro. Le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. Qui a Montreal l'entusiasmo è davvero palpabile. Sembra proprio che si preannunci un gran premio memorabile! Ed eccoci pronti per l'inizio della gara. C'è il sole per ora. Proseguiamo, andiamo a vedere qual è la strategia migliore per la nostra vettura. Strategia selezionata è da media a gomma hard, quindi noi selezioniamo sicuramente questa. Poi valuteremo se fare una strategia da media a due soft oppure media a media soft. Potremmo pensare di cambiare la nostra strategia e fare due soste. Consigliato ventiseiesimo giro, andare a montare la gomma hard. Io direi di arrivare anche al trentesimo giro. E ci dice di creare la strategia D, che è una strategia più lunga e andiamo sì a creare la nostra strategia. Mentre per quanto riguarda Carlos, idem, stessa strategia. E andiamo con lui a fermarci diciamo al trentunesimo giro, poi naturalmente valuteremo. Per quanto riguarda Charles, ho creato una nuova strategia e ho sbagliato a farlo. Naturalmente andiamo ad eliminarla, non ha senso e andiamo a modificare semplicemente la strategia A. Quindi confermata l'A per Charles Leclerc e confermata l'A anche per Carlos Sainz. A questo punto siamo pronti per avviare la nostra gara. È una bella giornata di sole e i piloti si stanno schierando. E ora Charles Leclerc è in P1. Vediamo se approfitterà della sua posizione in griglia. E più indietro c'è Sainz. Dopo l'incredibile qualifica di ieri, oggi la partenza sarà al ridosso della pole. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? Siamo pronti! Manca poco ormai al Gran Premio del Canada! Quattro luci, cinque luci che si spengono immediatamente parte del nostro Gran Premio. Mi sono completamente dimenticato di selezionare ancora una volta, ogni tanto mi dimentico. E infatti abbiamo già perso forse la posizione. Uno Sainz dovrebbe essere riuscito a difendersi dal pilota della McLaren che però ci vuole riprovare all'interno. Andiamo a seguire Carlos Sainz. È riuscito a difendersi e ora è subito il momento di scappare. Verstappen è partito molto bene. Si trova in quindicesima posizione. Non ho visto se partiva effettivamente dalla diciottesima o addirittura più avanti. Comunque andiamo a forzare subito per i primi giri. Proviamo a sfruttare il fatto di avere una McLaren dietro di noi per cominciare già a mettere un po' di vantaggio tra noi e le vetture che ci seguono. Partiti bene Norris, Bottas e Ocon con Perez che è rimasto per ora in sesta posizione. È lui il grande pericolo di questa gara ma dobbiamo cercare di sfruttare subito questi primissimi giri per scappare e mettere un buon divario tra i nostri piloti. Sainz sembra avere un passo leggermente inferiore rispetto al compagno di squadra. Vedremo se questo verrà confermato, se riuscirà a rimanere in zona DRS. Però vorrei evitare ancora una volta le possibili lotte tra il pilota Monegasco e il pilota Spagnolo. Stiamo andando a concludere il primo giro. Siamo nel rettilino principale. Direi di andare subito in standard e in equilibrata. Cominciamo a gestire le nostre modalità visto che abbiamo messo quasi tre secondi di vantaggio tra le due nostre vetture. E' il pilota McLaren. Anzi direi di andare addirittura in accumulo sulla batteria per farla ricaricare al massimo e non avere problemi di carica per i prossimi giri. La carica RS è stata completata per entrambi i nostri piloti. E' Charles Leclerc che si è preso subito un vantaggio di un secondo e mezzo nei confronti di Carlos Sainz. Quindi gli ha tolto il DRS. Sainz a sua volta ha tre secondi e mezzo su Norris. Perez non è riuscito a guadagnare per ora posizioni. Norris sta facendo un gran trenino dietro di sé. Questo è tutto a vantaggio nostro perché sicuramente se Norris va a bloccare i piloti dietro di lui anche se cominceranno molto probabilmente ora a passarlo grazie all'ausilio del DRS più fa da tappo dietro di noi più noi possiamo scappare. Possiamo essere tranquilli per le successive fasi della gara. Si prospetta però così, devo dire la verità, una gara abbastanza noiosa con noi davanti e tutti gli altri che cercano di inseguire la terza posizione. Attenzione Norris che cerca di difendersi da Valtteri Bottas che ci prova con l'ausilio del DRS. Vediamo se ce la può fare in questa seconda parte nel rettilineo principale. E sembra di sì, sembra Bottas si è preso il podio. La Alfa Romeo sembra veramente molto molto veloce in generale, soprattutto con Valtteri Bottas mentre Guanyo Joe fa fatica a tenere il passo del compagno di squadra finlandese. Charles sta iniziando il giro 10. Ci siamo messi in gestione di carburante in maniera netta e abbiamo continuato a guadagnare dietro di noi. Abbiamo sfruttato proprio questa condizione per risparmiare ora un bel po' di carburante e ora ci rimettiamo in equilibrata. Il giro veloce ce l'ha Verstappen in questo momento che è riuscito a risalire in tredicesima. Perez era addirittura sceso in settima ma poi è riuscito a risalire in sesta con Ocon ora in terza. Norris in quarta e Bottas che è sceso in quinta. C'è una lotta incredibile che porta praticamente da Norris fino alle due Mercedes di Russell e Hamilton. Poi un distacco abbastanza ampio tra Hamilton e Alonso di quasi tre secondi. Noi stiamo continuando a scappare. Leclerc continuano a guadagnare qualcosina nei confronti di Carlos Sainz. Sainz a sua volta continua a guadagnare nei confronti di Lando Norris. Andiamo a vedere il meteo. È previsto un po' di nuvola per la parte finale di gara con un po' di probabilità di pioggia ma non credo che si presenterà la pioggia durante questa gara. Verstappen per ora non riesce a rimontare quindi per ora la vittoria. Sarà una questione tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Inizio a gestire la gomma perché vedo che l'usura è bassissima su questo tracciato. Hamilton si va già a fermare per il suo pit stop. Partiva con una gomma rossa a questo punto. Mi viene da pensare che partisse con una gomma rossa e andrà a montare la gomma bianca. La Tifi si era già fermato ed è in fondo al gruppo con gomma hard quindi cercherà di arrivare in fondo. Vediamo Hamilton che gomma andrà a montare. Andiamo a seguirlo nel suo pit stop. Sta uscendo dai box in questo momento. Ha montato la gomma hard quindi per cercare di arrivare fino in fondo. Russell è in terza posizione in questo momento con gomma rossa. Mi sembra che Hamilton si sia fermato un po' troppo presto con quella gomma perché ora deve fare 52 giri con la gomma hard per arrivare fino in fondo e considerando l'usura di un Russell penso che Hamilton abbia più o meno la stessa usura. Forse si è fermato un po' troppo presto. Noi comunque ci mettiamo tranquillamente in gestione della nostra gomma gialla. Abbiamo Verstappen che è partito con la gomma media e ha più usura rispetto a noi. Si trova però in nona posizione e è riuscito a risalire in zona punti. Dicevo ci mettiamo in gestione di questa gomma perché per quanto la stiamo usurando siamo solo al 70 al 69 per cento potremmo pensare addirittura di allungare il nostro stint e di andare a montare un solo treno di gomma soft per terminare la gara se dovessimo arrivare all'incirca al 45esimo giro con questa gomma. Naturalmente non voglio forzare questa strategia. Sto pensando che possa essere una valida alternativa considerando che stiamo guadagnando comunque nei confronti di Esteban Ocon. Potrebbe essere una valida alternativa mentre c'è bandiera gialla nel settore 1 per il bloccaggio di un pilota Ricciardo. Intanto si va a fermare ai box. Bloccaggio di Fernando Alonso. Andiamo subito a vederlo. Curva 14 bloccaggio per lui. Non mi sembra curva 14 ma mi sembra curva 1. Però non ha incidentato anche se l'animazione è un po' così. E guardate la disperazione del box dell'Alpine. Mi pare che Alonso stesse lottando per la zona punti. Andiamo a vedere in che posizione si trova. Infatti in undicesima posizione a 2 secondi e 3 Datsunoda che ora occupa la zona punti. Dicevo quindi che noi ci mettiamo in gestione di questa gomma. Se riusciamo a gestirla fino al 45esimo giro e secondo me in questo momento per quanto è l'usura possiamo arrivarci tranquillamente. Andremo per gli ultimi 25 giri di gara a montare una gomma rossa e avremo più possibilità naturalmente di fare un giro veloce molto molto basso. Quasi un giro da qualifica. Si sono fermati praticamente tutti ai box. Tant'è che Ocon si trova in terza e Verstappen in quarta posizione che cercherà di andare lungo con la sua gomma gialla. Naturalmente ora valutiamo quali sono i tempi di quei piloti che si sono andati a fermare per capire se perdiamo troppo naturalmente. Non cercheremo di tirarla troppo lunga con questa gialla e andremo a montare una bianca che è la strategia sicuramente originaria. Non voglio fare in modo che succeda la stessa identica cosa che è successa nella Gran Premio di Monaco. Iniziano i doppiaggi per Charles Leclerc che ha un vantaggio di 3 secondi e 2 nei confronti di Carlos Sainz quindi praticamente si sta togliendo di dosso il pilota spagnolo e sta sventando la possibilità di un undercut anche se naturalmente a meno che non ci siano straordinari avvenimenti difficilmente faremo fermare prima Carlos Sainz perché non voglio che rientrino in lotta tra di loro e rischino di fare un patatrack insomma. Stiamo girando in 1.19 gestendo la nostra gomma abbiamo Alonso in 1.18 con Zu dietro di lui in 19.2 sta guadagnando qualcosina Esteban Ocon in terza posizione ma ricordo che noi stiamo gestendo tantissimo la nostra gomma in questo momento addirittura Hamilton in 1.19.5 un po' bloccato da Magnussen 1.21.8 addirittura per Russell quindi là dietro stanno perdendo o non stanno guadagnando praticamente nulla ma noi possiamo andare tranquillamente in leggera ora e aumentare leggermente il nostro passo teoricamente dovremmo rimetterci così subito a riguadagnare nei confronti dei piloti che stanno dietro di noi. Verstappen ha fatto il giro veloce ma noi non puntiamo naturalmente a farlo in questo momento. Si fermano anche Ocon, Zu, Verstappen, Vettel e Magnussen tutti partiti con la gomma gialla noi abbiamo una gomma al 58% non ha senso andare a fermarci in questo momento però voglio tenere d'occhio il passo di Max Verstappen che probabilmente rientra in ottava posizione quindi è riuscito a guadagnare delle posizioni rientra in zona punti addirittura si trova solo due posizioni dietro al suo compagno di squadra quindi al momento Verstappen sta comunque asfaltando Sergio Perez il giro veloce nelle mani di George Russell andiamo a vedere il precedente giro come è stato completato abbiamo 27 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Esteban Ocon che è in terza posizione e sta tenendo dietro Hamilton però fuori dalla zona DRS andiamo a vedere l'ultimo giro in 1.18.2 per noi 1.18.3 per Carlos Sainz 1.34 per Ocon 1.18.5 per Lewis Hamilton quindi stiamo comunque guadagnando nei confronti dei piloti che montano la gomma bianca diamo un'occhiata ai tempi stiamo viaggiando ad 1 con ottimi tempi 1.18.1 1.18.2 per i nostri due piloti 1.18.0 per Hamilton 1.17.7 per Ocon questi primi giri quindi stiamo perdendo qualcosa ma sempre nell'ordine di decimi considerando che avevamo interi secondi di vantaggio quasi 10 secondi di vantaggio ora Hamilton si trova a 30 secondi di distacco quindi abbiamo tranquillamente la possibilità di effettuare il nostro pit stop Sainz è riuscito ad accorciare io direi di andare un po' in potenza a sfruttare un po' la potenza del nostro ERS e vediamo un po' se riusciamo a riguadagnare qualcosina in questi giri poi naturalmente andiamo a rivalutare se continuare con questa gomma potremmo pensare anche di fare semplicemente 42 non per forza 45 giri con questa gomma gialla per poi montare la gomma rossa per terminare la nostra gara questa è una prova anche per capire qual è il limite della nostra vettura in questo momento naturalmente sta andando tutto molto bene perché stiamo perdendo veramente poco nei confronti di coloro che hanno appena montato la gomma bianca 35esimo giro Leclerc 4 secondi di vantaggio su Sainz che ne ha 28 di ritardo di vantaggio nei confronti di Russell che si è preso il giro veloce però teoricamente sono sempre in lotta quindi potrebbero sempre perdere qualcosina ultimi giri in cui hanno guadagnato qualcosa i piloti dietro di noi però per ora stiamo riuscendo ancora a fare ottimi tempi sempre sul 17 e mezzo vi faccio vedere la schermata Hamilton fa il settore centrale più veloce con Russell che ha fatto 1.16.5 quindi ha guadagnato un secondo e mezzo nell'ultimo giro nei confronti di Charles Leclerc sicuramente grazie all'utilizzo anche del DRS ora andiamo a valutare in questi prossimi giri se continuano a guadagnare tanto nel caso naturalmente faremo fermare i nostri due piloti magari prima Sainz visto che ora è praticamente fuori dalla finestra di Charles Leclerc però vedete come stanno lottando ora Hamilton va a prendere la posizione nei confronti di Russell e questo sicuramente sta andando a rallentare i piloti dietro di noi principalmente i due piloti della Mercedes siamo al 41esimo giro Charles Leclerc sta iniziando il 42esimo ora in terza posizione c'è Sergio Perez che finalmente è riuscito a guadagnare le sue posizioni siamo però sempre con 28 secondi di vantaggio per Sainz nei confronti di Perez attenzione perché abbiamo un Aston Martin che sta cercando di sdoppiarsi il 42esimo giro a questo punto direi di andare completamente all'attacco al massimo e modalità potenza per entrambi i nostri piloti e andiamo a fermarci al termine di questo giro con il nostro Charles Leclerc con Sainz andiamo invece a gestire ancora un po' le RS poi spingeremo al massimo nel prossimo giro facciamo fermare prima Charles Leclerc per lui pit stop alla fine di questo giro andiamo a fermarci per montare la gomma rossa nuova dovremo tranquillamente essere in grado di gestirla molto bene visto che ne abbiamo fatti 42 con questa gomma gialla e poi nel giro successivo si fermerà Carlo Sainz ed ecco Sainz sta cominciando a perdere qualcosina nei confronti di Perez mentre Leclerc rientra ai box per il suo pit stop mentre con Sainz siamo passati quindi selezioniamo la casella della strategia box dell'ingresso box pit stop effettuato per Charles Leclerc che rientrerà tranquillamente in seconda opzioni box andiamo a montare gomma rossa per Carlo Sainz che si va a fermare quindi al termine di questo giro vediamo se riesce a rispondere Charles Leclerc subito però lo facciamo andare tranquillamente in standard per questa prima parte di questo giro e poi lo faremo spingere al massimo nel prossimo per ovviamente cercare il giro veloce anzi andiamo in accumulo forse addirittura per due giri con Charles Leclerc per poi fargli provare appunto il suo giro veloce andiamo anche in conservativa sul carburante di modo da gestirlo ora per poi non nel prossimo ma nel giro successivo tentare il giro veloce e rientra il pilota spagnolo Carlo Sainz per il suo pit stop Leclerc ha guadagnato veramente tanto sembra in questo giro dice 12 secondi di ritardo gomma rossa grande strategia da parte nostra abbiamo un'usura gomme veramente veramente bassa sta arrivando Charles Leclerc che passa tranquillamente sul traguardo e quindi si mette davanti al suo compagno di squadra continuiamo un po' a gestire con entrambi i nostri piloti poi a brevissimo tenteremo il giro veloce anzi andiamo anche in leggero ora con il pilota Monegasco e in accumulo sull'Hers con Carlos Sainz 16 secondi di vantaggio no 13 ora vediamo come diminuisce 13,4 di vantaggio di Sainz nei confronti di Sergio Perez un vantaggio veramente incredibile per noi con Sainz che è riuscito comunque ad accorciare nei confronti di Charles Leclerc 2,8 secondi ora il divario tra i due ed ecco lo Charles che è pronto ad iniziare il giro veloce della sua gara lo facciamo spingere al massimo in tutte le modalità e alla fine del giro no alla fine sì di questo giro faremo provare lo stesso anche per Carlos Sainz che lui lui sta cercando di ricaricare la sua batteria quindi con lui il giro veloce lo proveremo nel prossimo tentativo Charles Leclerc quindi inizia quello che deve essere il suo giro veloce andiamo al termine del giro andiamo a velocizzare e vediamo che tempo sarà in grado di si siglare purtroppo trova un po' di traffico davanti a sé quindi dobbiamo farlo rallentare inutile fa settore fucsia ma non ha senso farlo continuare in questo momento andiamo nuovamente in accumulo con lui e continuiamo a gestire aspettiamo il momento in cui avremo un po' di pista libera probabilmente subito dopo il doppiaggio ora Leclerc è riuscito nel doppiaggio quindi ci riprova all'inizio di questo giro insieme a Carlos Sainz vediamo però se Carlos riesce a effettuare il doppiaggio nei confronti della Haas probabilmente lui dovrà provarlo nel giro immediatamente successivo Charles Leclerc va a chiudere il suo giro veloce mentre con Sainz facciamo ancora un giro di ricarica e poi cercheremo di fare il giro veloce della gara triplo settore fucsia andiamo a vedere l'ultimo giro di Charles Leclerc in 1.14.2 tempo da qualifica stanno viaggiando in 1.17 a 1.16.6 Sergio Perez con subito dietro Valtteri Bottas che però è distaccato quindi Perez ora si è preso praticamente il podio con Verstappert che è ancora fermo in ottava posizione con Leclerc andiamo subito in leggero in equilibrata e in neutro sulle sue modalità con Carlos Sainz proviamo il giro all'inizio del prossimo giro quindi del 49esimo giro Carlos è pronto ad iniziare il suo tentativo di giro veloce vediamo se riuscirà a battere il suo compagno di squadra è a 11.08 ha guadagnato veramente tantissimo Carlo scusate Charles grazie al tentativo di giro veloce vediamo se riuscirà a battere Carlo Sainz altrimenti ci fermeremo il giro veloce se lo prenderà Charles Leclerc che ha una gomma anche molto più consumata quindi deve stare attento alla gestione di quella gomma vediamo ma non credo che Sainz abbia il passo per ottenere il giro veloce in questa gara Sainz sta andando a tagliare il traguardo doppio settore verde quindi si migliora nettamente fa l'ultimo settore fucsia rispetto al compagno di squadra ma purtroppo non basta per effettuare il giro veloce lo mettiamo in standard in equilibrata e in neutro e a questo punto possiamo tranquillamente gestire con entrambi i nostri piloti Leclerc ha un vantaggio ora di 9 secondi e 3 nei confronti di Sainz credo che Sainz abbia perso anche per via dei doppiaggi Perez a 11 secondi da Carlo Sainz mancano 20 giri di gara direi di metterci anche in conservativo con entrambi i nostri piloti per andare a gestire tranquillamente le nostre gomme per quest'ultima fase di gara non succede più nulla a parte dei doppiaggi per i nostri piloti ho dovuto doppiare il trenino che da Norris porta se non sbaglio a Magnussen il nostro no forse da Ricciardo porta a Magnussen e Fettel comunque il trenino appena fuori dalla zona punti va a tagliare il traguardo Carlo Sainz andiamo a seguire Charles Leclerc che ha un vantaggio di 10 secondi e 3 nei confronti del compagno di squadra abbiamo spinto un po' di più in questi ultimi giri ora ci possiamo rimettere tranquillamente in leggero per ricominciare a gestire la nostra gomma e guardate com'è il piano di usura della rossa e guardate quanto siamo superiori rispetto al piano d'usura abbiamo una vettura davvero che riesce a gestire molto molto bene la sua gomma e soprattutto ora con gommatura della pista molto alta l'usura continua a scendere quindi tranquillamente non avremo problemi per terminare la nostra gara abbiamo una gomma al 55 58% 54% ora per Charles Leclerc possiamo tranquillamente potremmo anche andare in standard ma mi sto mettendo in gestione considerando che Sergio Perez è molto lontano e Sainz non ha alcuna possibilità di andare ad attaccare il suo compagno di squadra Leclerc ha fatto una step up nelle ultime gare sta dimostrando di avere un passo migliore nei confronti di Carlos Sainz il suo problema è che dovrà scontare tante penalità per sostituzioni del cambio per via del bug che si è presentato nelle precedenti gare lui sta usando il cambio numero 4 e è l'ultimo cambio a sua disposizione ci siamo siamo con Charles Leclerc che sta andando ad iniziare l'ultimo giro il settantesimo giro di questa gara 9 secondi e 2 nei confronti di Sainz che a sua volta ne ha 17 e mezzo nei confronti di Perez Verstappen è riuscito a rimontare ora fino alla quarta posizione ed è riuscito a togliere il DRS a Lewis Hamilton quindi sarà un 3-4 per Red Bull buonissima con tante difficoltà ma buonissima la loro rimonta la rimonta di Max Verstappen ma ancora una volta per noi è stato un assoluto dominio a partire dalle qualifiche grazie anche agli errori dei nostri avversari strategia che è andata benissimo stavolta siamo riusciti a gestire benissimo la nostra gomma gialla prima di montare una gomma rossa una strategia che non era assolutamente consigliata invece ci ha permesso di fare un giro veloce assolutamente imbattibile con Charles Leclerc uno Charles Leclerc che è riuscito a dominare anche il suo compagno di squadra più nel secondo stint di gara piuttosto che nel primo in questi ultimi giri si è messo un po' più in gestione il pilota monegasco e Sainz è riuscito ad accorciare il divario ma sono nove secondi e due sono veramente tanti considerando che hanno esattamente la stessa vettura ultimo rettilino fortunatamente non incontriamo quel gruppetto di piloti che ci farebbe perdere veramente tantissimo tempo nei doppiaggi ultima chicana per Charles Leclerc molto in maniera molto accorta e va a tagliare il traguardo Charles Leclerc che vince il Gran Premio del Canada va a vincere la sua seconda gara consecutiva e continua a rimontare nei confronti del compagno di squadra ecco il replay ed è finita vince Charles Leclerc beh dopo una prestazione di questo genere merita sicuramente il gradino più alto del podio è stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc questo podio è un traguardo notevole per l'intera squadra oggi il pilota monegasco ha dimostrato quanto vale con una prestazione pazzesca è stata una battaglia per tutti ma alla fine sono loro tre che portano i punti più preziosi alla squadra dubito che la Ferrari sia rimasta delusa dai risultati di oggi uff hai ragione da vendere ed è stata una giornata memorabile anche per i tifosi dopo un weekend di emozioni la squadra è al primo posto della classifica costruttori la prossima tappa ci porterà nel cuore del Regno Unito preparatevi al grande spettacolo di Silverstone la culla della Formula 1 ed eccoci al resoconto di gara vince Charles Leclerc che sta cominciando a diventare dominante così come era stato dominante Carlos nella prima parte di stagione 1.14.210 quasi quasi lo prendeva Carlos Sainz 1.14.221 e poi il secondo giro veloce anzi il terzo giro veloce lo ha fatto Verstappen in 1.15.781 ma consideriamo che noi il giro veloce lo abbiamo fatto praticamente a 20 giri dal termine della gara quindi se lo avessimo fatto alla fine avremmo incontrato una pista più valida più gommata quindi massimo dei punti anche questo fine settimana classifica piloti e ora si avvicina veramente tanto Charles Leclerc 191 per Carlos Sainz 183 per Charles Leclerc 128 Verstappen 126 Sergio Perez classifica costruttori 374 Ferrari 254 Red Bull 147 Mercedes 8 vittorie 8 podi 8 giri più veloci 5 pole position gare concluse 9 su 9 con entrambi i nostri piloti proseguiamo e torniamo alla nostra dashboard ed eccoci tornati alla nostra dashboard abbiamo subito da leggere le email abbiamo anche un punto di sviluppo per Carlos Sainz che andremo a vedere subito pilota emergente durante la ricerca di nuovi talenti i nostri scout hanno individuato Caio Collè andiamo a vedere la schermata di questo pilota che ha un 55 ora pazienza per la trattativa molto alta atteggiamento negoziale disponibile a trattare forse dobbiamo proprio andare allo scouting andiamo a vederlo andiamo per la prima volta a effettuare lo scouting di un pilota visto che ci viene consigliato magari un grande potenziale anche se sinceramente al momento non è che ci interessi tanto abbiamo Arthur Leclerc che potrebbe essere interessante da mettere sotto contratto con il compagno di squadra però difficilmente in questa carriera andremo a cambiare i nostri piloti ancora le altre email sviluppo di Antonio Giovinazzi acquisito molta esperienza in gara e in allenamento e ha due punti sviluppo disponibili panoramica post gara congratulazioni altro grande risultato per noi possiamo tranquillamente andare nella schermata dei piloti andare prima su Carlos Sainz per gestire il suo punto sviluppo i punti più bassi sono riflessi e fluidità direi di andare ancora una volta su riflessi e migliorarlo 80 e Sainz rimane comunque ad 87 mentre per quanto riguarda Antonio Giovinazzi due punti di sviluppo il punto più basso è frenata insieme a difesa difesa molto molto bassa andiamo uno in difesa e uno in frenata per Antonio Giovinazzi che è un 78 e secondo me può essere un pilota molto valido per altre scuderie in Formula 1 possiamo proseguire a questo punto nel nostro calendario perché credo che abbiamo le strutture e soprattutto lo sviluppo dei componenti tutto in corso andiamo a vedere sviluppo progetti in corso abbiamo due progetti e due produzioni per alettone anteriore e alettone posteriore quindi possiamo proseguire a questo punto nel nostro calendario produzione completata delle pance laterali spec 2 andiamo subito a vederle magazzino andiamo nelle pance laterali e andiamo a montarle su entrambe le nostre vetture due magazzino e due installate quindi ottimo aggiornamento per le nostre pance laterali che abbiamo montato in questo momento e quindi possiamo andare tranquillamente allo sviluppo dei componenti dell'auto vedere i progetti in corso e abbiamo un progetto no una costruzione teoricamente questi due sono i progetti in corso e questi sono le produzioni in corso abbiamo un telaio in fase di produzione però non ha senso che andiamo a produrre altro perché dovremmo avere abbastanza pezzi di ogni singolo componente abbiamo anche due telai da andare a montare che non avevamo montato per lo scorso gran premio quindi telaio spec 2 lo diamo ugualmente a montare su entrambe le nostre vetture e sono in sviluppo altri due elementi da poter utilizzare come come spare parts però naturalmente per il gran premio di Silverstone voglio i migliori pezzi a nostra disposizione contratto di Xavier Marcos Padros sta per scadere quindi andiamo a rinnovare il contratto dell'ingegnere di pista di Charles Leclerc che ha anche un punto sviluppo io non sapevo che anche gli ingegneri potessero avere dei punti sviluppo quindi andiamo subito a migliorare il suo comunicazione e aumenta ad 84 il nostro Xavier Marcos Padros per quanto riguarda il rinnovo del contratto andiamo su schermata del contratto e rinnoviamo il contratto dell'ingegnere di pista di Charles Leclerc proviamo ad offrirle un contratto con lo stesso stipendio di ora 1.270.000 con bonus forfettario di 130.000 costo totale di assunzione 455.000 però proviamo ad offrirle un contratto di 5 anni tanto la nostra carriera comunque non durerà per 5 anni invio della proposta per Xavier Marcos Padros che richiede forse qualcosa no contratto accettato contratto accettato per 5 stagioni quindi Xavier Marcos Padros rinnova il contratto e confermiamo la nostra scelta Xavier Marcos Padros quindi sarà ancora per 5 stagioni l'ingegnere di pista dell'auto della vettura numero 1 vediamo poi se anche Riccardo Adami è in scadenza non mi sembra il contratto di Antonio Giovinazzi sta per scadere direi di rinnovare il contratto anche del nostro pilota di riserva andiamo nella schermata del contratto andiamo a vedere il rinnovo del contratto possiamo confermargli tranquillamente lo stesso stipendio con bonus forfettario è un contratto per lui direi di 2 stagioni come pilota di riserva come collaudatore vediamo se ci sono altri titoli no auto 1 auto 2 è collaudatore offriamo il contratto alla pilota italiano invio della proposta 2 stagioni contratto rifiutato vorrebbe un contratto un po' più lungo però non ci dice che tipo di contratto vorrebbe vediamo se accetta un 3 stagioni e offriamo il contratto nuovamente al pilota italiano che non è ancora felice potrebbe forse volere un contratto da un anno a questo punto riprendiamo la negoziazione offriamo il contratto ad Antonio Giovinazzi vediamo se accetta un contratto di una stagione no assolutamente no contratto rifiutato quindi vuole un contratto più lungo lo confermiamo dai 5 stagioni Antonio Giovinazzi quindi praticamente fino a fine carriera come collaudatore ora è felice quindi risposta positiva rinnoviamo il contratto del pilota italiano quindi Giovinazzi sarà ancora per 5 stagioni il collaudatore di Ferrari andiamo ancora alle nostre email Ersim in pessime condizioni potremmo pensare di sostituirlo pance laterali produzione completata Diego Tondi il contratto capo dell'aerodinamica sta per scadere un 90 quindi andiamo sicuramente a confermarlo e rinizia il periodo ATR rinnoviamo anche il contratto e andiamo a aumentare anche le caratteristiche le statistiche del nostro Diego Tondi che ha ben due punti di sviluppo i punti più bassi sono nel delta DRS e nel raffreddamento andiamo a migliorare il raffreddamento che è stato un punto a sfavore nella vettura di Charles Leclerc rinnova contratto e purtroppo si ritira purtroppo Diego Tondi si ritira quindi se continueremo per un'altra stagione dovremo trovare un nuovo capo dell'aerodinamica andiamo a vedere anche gli altri elementi a un punto di sviluppo anche Enrico Cardile il capo tecnico per lui andiamo a migliorare il telaio il suo contratto è in scadenza tra più di un anno quindi nella stagione successiva Riccardo Adami un punto di sviluppo andiamo per lui gestione dei meccanici contratto ancora per un anno quindi abbiamo praticamente ricontrollato tutto il personale perlomeno gli elementi principali del personale possiamo tranquillamente proseguire nel nostro calendario ancora email contratto di Xavier Marcos Padros rinnovato Antonio Giovinazzi rinnovato anteprima del British GP e scouting di Caio Collè completato ha un alto potenziale di crescita con aggressività media andiamo a vedere il profilo non ci dice comunque quanto potrebbe migliorare ma sicuramente un 55 al momento non ci può interessare quindi torniamo nel nostro menu dovremmo essere praticamente al British GP weekend di gara giorno 1 andiamo a rivedere la nostra vettura a rivedere il nostro magazzino a vedere se abbiamo montato tutti gli elementi migliori per la nostra vettura tutte le spec 2 per gli elementi che siamo andati a sviluppare abbiamo in tutte le nostre vetture la spec 2 andiamo però a vedere anche le condizioni dell'HERS perché l'HERS è al 35% però secondo me ancora per una o due gare possiamo utilizzarlo per cercare appunto di fare appena metà stagione con l'HERS 1 e poi andare a montare l'HERS 2 ed evitare penalità almeno in una parte centrale della stagione torniamo alla nostra home e con questo episodio ragazzi abbiamo terminato se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel mi piace qui sotto di lasciare il vostro pronostico nei commenti per il Gran Premio di Silverstone secondo voi in che posizioni andremo a terminare e soprattutto se vi piace questa serie vi invito a valutare l'iscrizione al canale per me farebbe una grandissima differenza quindi vi invito a farlo ora iscrivetevi al canale e nel caso cliccate anche a fianco al canale iscriviti in quella campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti in uscita del canale io vi ringrazio ancora una volta per la visione e vi do appuntamento al prossimo episodio GP di Silverstone siamo praticamente arrivati quasi al giro di boa della stagione alla prossima ciao Willers Grazie a tutti